C'è poco tempo sono riuscita già a vedere i risultati, che ogni volta ci furono tempi lunghissimi per ottenere questi tipi di risultati nella parte in cui io avevo necessità. Allora Elisabetta, presentati e spiega per quale esigenza ti sei rivolta a noi. Allora, ciao a tutti, sono Elisabetta, ho deciso di intraprendere questo percorso con il centro estetico La Mimosa, vedendo dei video su Facebook pubblicati appunto da loro e mi sono incuriosita. Era da tempo che volevo prendere un appuntamento con loro, vedendo le loro promozioni e finalmente ho deciso di chiamare, proprio perché qualche giorno prima, guardandomi molto bene, ho detto non mi piaccio più. E ho detto che voglio provare a ritornare, diciamo, come ero un po' prima, no? E quindi ho cercato di prendere questo appuntamento e abbiamo incominciato questo cammino con loro. Perfetto, avevi già provato a risolvere questa particolare esigenza, questo problema che avevi oppure no? Tanti anni fa avevo intrapreso pure un cammino e mi sono trovata, devo dire, anche molto bene, però nel tempo mi sono molto trascurata, ho lasciato perdere completamente e quindi andando avanti negli anni non ho intrapreso più nessun cammino da questo punto di vista, quindi di trattamenti e altro. E quindi ora ho deciso di riprendere questo cammino e devo dire che mi sono trovata davvero molto bene con Bambamela, con tutte le sue collaboratrici, molto simpatiche e molto professionali soprattutto, perché questo è molto anche importante, perché devi trovare bene sia moralmente con loro, ma anche devi trovare, devi ottenere i risultati per trovarti bene con loro e devo essere sincera, ora sono quasi tre mesi e il lavoro ancora è lungo, però devo dire che i risultati già si vedono, mi sento meglio io, mi vedo meglio io e sono più felice. Bene, c'è qualche aspetto che ti ha colpito in particolare nel nostro modo di lavorare? Allora, devo dire che ognuno di loro, ognuno delle collaboratrici hanno il loro top in alcune cose, chi fa il massaggio, chi fa il fango, ha tutti i vari trattamenti e devo dire che mi sono trovata davvero molto bene e oltretutto la simpatia che hanno nei miei confronti, mi coccolano. Bene, bene. Che risultati hai avuto lavorando con noi, Elisabetta? Allora, io ho avuto sempre un problema nella parte inferiore del mio corpo, però devo dire che anche col tempo ho acquistato peso e inestilismi anche in tutta la parte del mio corpo, quindi devo dire che ho lavorato sempre tanto nella parte inferiore e finalmente, non dico in poco tempo, sono riuscita a già vedere i risultati, che ogni volta ci volevano tempi lunghissimi per ottenere questi tipi di risultati nella parte in cui io ho più necessità. Perfetto. Pensi che potremmo migliorare il nostro servizio ulteriormente? Come lo potremmo migliorare? Per essere sincera, prima adesso mi sono trovata davvero molto bene con i tipi di trattamenti effettuati, con i macchinari che hanno utilizzato, perché ci sono diversi macchinari che utilizzano per diverse cose specifiche, quindi devo dire che mi trovo molto bene da questo punto di vista. Ok, pensi che consigli, cosa diresti per esempio ad una tua amica che ha bisogno magari di risolvere un determinato inestetismo, ci consiglieresti? Io sì, consiglierei a delle mie amiche, a delle mie conoscenti di provare, di venire qua e sicuramente si troveranno molto bene con tutto lo staff, perché davvero raccolgono bene a noi donne che abbiamo bisogno di essere coccolate e di nuovo di riprendere in mano la nostra vita, non pensando sempre al lavoro, famiglia che è importantissimo anche quello, però noi siamo anche importanti. Assolutamente. 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 Amen.